Ci sono pareggi che lasciano l'amaro in bocca e ce ne sono altri che invece hanno il dolce sapore della beffa evitata e un profumo molto simile a quello di una vittoria. E il punto raccolto dal Bari sabato contro il Cagliari rientra sicuramente in questa seconda casistica. Una X inseguita, cercata, voluta e poi infine conquistata grazie alla firma prestigiosa di Mirko Antenucci e con la complicità dell'uomo che non ti aspetti. 23 anni tra 7 giorni, baglia numero 14 sulle spalle, Gregorio Moracchioli è stato mandato in campo da mister Mignani al minuto 80 della sfida ai Sardi con il preciso compito di provare a fare impazzire la blindatissima difesa del Cagliari mettendo al servizio della squadra le sue caratteristiche migliori. Cercare l'uno contro uno giocando largo sulla sinistra, provare a saltare l'uomo, mettere dentro palloni pericolosi. Detto, fatto, il ragazzino, come qualcuno l'ha già soprannominato, a tempo quasi scaduto, punta e salta secco Capradossi, mette dentro il pallone per lo stacco di Di Cesare e poi sulla palla vagante che ne scaturisce si fionda Maiello che viene atterrato. Rigore, gol al 95esimo, delirio. Grazie anche a una delle alternative arrivate nel corso del calciomercato invernale, Moracchioli è stato solo l'ultimo, in ordine di tempo, a poter assaggiare il campo dopo il suo arrivo negli ultimi minuti della sessione di gennaio. Prima di lui Molina è entrato da subito nelle rotazioni di mister Mignani sin dalla trasferta a Ferrara, quattro giorni dopo l'ufficialità del suo trasferimento in bianco-rosso. Poi Benali, utilizzato a gara in corso contro il Cosenza e contro il Cagliari alla sua primaria titolare, si è rivelato uno dei migliori in campo. Ma soprattutto quel Sebastiano Esposito che, appena arrivato per tre partite consecutive, si è preso immediatamente il posto tra gli undici di partenza, mettendo a referto due reti in tre apparizioni, con una media di un gol segnato ogni 82,5 minuti giocati. Esposito, Molina, Benali e Moracchioli, con un Bari che si è ripreso il terzo posto e che non può più davvero evitare di guardare in alto, la forza del gruppo e l'abbondanza, oltre alle qualità delle alternative, rappresenteranno certamente, da qui alla fine del campionato, un motivo in più per consentire a mister Mignani e ai suoi ragazzi di coltivare sogni e ambizioni.